Fabrizio Frongillo dell'associazione Quarto Giovane stigmatizza un post messo dal sindaco Rosa Capozzo per ricordare Peppino Impastata. La vostra risposta è stata molto dura. Beh, sì, guardi, al di là di quello che ha scritto il sindaco in risposta, noi come quarto giovane non abbiamo mai pensato di dover dare patenti di legalità a nessuno. Prendevamo solamente atto di quelli che sono i fatti, cioè il sindaco di un'amministrazione che deve in parte i suoi voti a vicende poco chiare e che hanno l'odore del malaffare, si permette di onorare una persona che invece ha fatto della legalità e della lotta contro le mafie il suo punto centrale di vita. Beh, per questo noi ci siamo indignati di fronte a tale comportamento e soprattutto ci rendiamo conto che non è possibile che chi regge oggi il proprio potere su un'alleanza con forze che definiva di malaffare durante la campagna elettorale e che erano alla sua opposizione, possa ancora in qualche maniera cercare di difendersi piuttosto che concentrarsi su quelle che sono le cose concrete. Fabrizio, voi siete un'associazione politico-culturale, il vostro presidente ha deciso di scendere in campo, quali sono gli obiettivi che volete portare avanti? Ma gli obiettivi sono sempre gli stessi, come si evincono anche dallo stesso comunicato, più che concentrarci su quelle che sono le beghe, noi ci siamo sempre concentrati sui fatti e l'impegno di quarto giovane quindi a portare avanti iniziative concrete come quelle che purtroppo invece l'amministrazione ha perso. Ricordiamo il progetto Jessica al quale l'amministrazione non ha partecipato, il mancato accordo per l'entrata all'interno della conferenza dei servizi che voleva il comune di quarto anche tra quelli che avrebbero aderito al distretto turistico Flegre e quindi la perdita di opportunità e la recente perdita di un finanziamento che avrebbe permesso l'opportunità per l'amministrazione di costruire strutture sul territorio. Inoltre denunciamo come è più di un anno che il PUC dopo la revoca, come c'è scritto dalle carte, altro che solamente una dimenticanza dell'approvazione delle linee guida fatte dalla commissaria è oramai scomparsa dalla popolazione e dal paese.